Quella lì, quella lì non ce la devi mettere lì, eh? No, no, no. Una lavatrice lasciata lì accanto ai bidoni della differenziata a pochi passi dall'ingresso del parco del Pionta in piano centro ad Arezzo. Stavolta a beccare il responsabile di questo gesto è stato un cittadino che dopo aver ricordato che non si fa così ha aspettato che anche la lavatrice fosse rimossa. Poi il video è stato pubblicato sui social network, migliaia le visualizzazioni in pochi minuti e tante le condivisioni a dimostrazione del fatto che ormai non basta più annunciare misure drastiche e la gente vuole i fatti e se i fatti non ci sono la giustizia si fa in altri modi. Certo non proprio ortodossi ma a giudicare dai commenti molto apprezzati. A Montevarchi si sono attrezzati per fenomeni simili con le cosiddette fototrappole. Gli incivili di certo non hanno la targa ma sapere di essere ripresi dalle telecamere mentre si abbandona un rifiuto ingombrante di sicuro sarebbe un bel deterrente. Intanto ad Arezzo ci pensano i cittadini che giornalmente segnalano alla consigliera Mary Cornacchini le situazioni di degrado ma non basta. Servono misure più incisive altrimenti siamo ad un passo dalla giustizia fai da te.